L'oblio per le biblioteche rischia di far saltare anche il progetto del bando per le periferie tra comune e biblioteca di Giampaolo di Pescara. La giunta Marsilio ancora una volta distante da biblioteche cultura. Questa la denuncia del Partito Democratico che questa mattina ha alzato nuovamente un grido di dolore per l'abbandono delle biblioteche regionali. Dopo la conferenza stampa del 7 agosto elementamento che ha permesso di sanificare e quindi riaprire le biblioteche regionali rimaste chiuse, questa mattina gli esponenti del Partito Democratico in Consiglio regionale e al comune di Pescara hanno nuovamente richiamato la regione ad un interessamento importante per le biblioteche abruzzesi. Come abbiamo dimostrato con varie attività che abbiamo portato avanti come gruppo del Partito Democratico, un'interpellanza nel 2020, un sit-in sotto la biblioteca d'annunzio, una conferenza stampa ancora ad agosto del 2021 e ancora oggi qui nuovamente per dire che le biblioteche ormai sono diciamo all'abbandono, chiudono, non riaprono, l'assenza di sanificazione. Abbiamo fatto stanziare noi del Partito Democratico 131 mila euro per la sanificazione dopo la pandemia delle biblioteche che ha consentito a molte biblioteche di essere riaperte ma c'è una grande carenza di personale. Il consigliere comunale di centro-sinistra a Pescara Mirko Frattarelli ha poi parlato della situazione difficile che sta vivendo la biblioteca di Giampaolo di Pescara. Il consigliere Frattarelli ha invitato la giunta regionale a prendere gli opportuni provvedimenti. Se da una parte c'è la regione Abruzzo che diciamo tra virgolette mette un freno a dei fondi del governo per la biblioteca di Giampaolo, per le attività di questa biblioteca che oggi è completamente martoriata perché è passata da dieci dipendenti a due dipendenti, da un servizio aperto al pubblico veramente carente, dall'altro lato c'è il comune di Pescara che non spende una parola per una delle pochissime biblioteche presenti in città e l'unica presente in un quartiere disagiato, in un quartiere diciamo difficile come quello di Pile del Fuoco. Io voglio chiedere all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore della cultura, di spendersi e di farsi sentire con Marsilio e con l'assessore regionale della cultura affinché la di Giampaolo possa diventare una biblioteca diciamo europea e sicuramente più accessibile a tutti, studenti e non ovviamente.